Quasi esclusivamente beni di prima necessità, un piccolo pensiero, spiegano a Barletta, indirizzato a chi non potrà trascorrere le festività natalizie tra cenoni e scambi di regali. L'operazione Sorriso, organizzata dall'Associazione Barlette Avest, coinvolge quest'anno l'Istituto Comprensivo d'Azeglio De Nittis. Docenti, alunni e collaboratori scolastici hanno contribuito con entusiasmo alla raccolta alimentare in favore di 50 famiglie disagiate. Non basta un'interaula a contenire la solidarietà messa in campo da piccoli e adulti. Quest'anno sono veramente orgoglioso di dare un sorriso a 50 famiglie. È una cosa bellissima che io ogni anno credo in questo progetto e mi riesce sempre perché grazie alla collaborazione di tutti i ragazzi che hanno preso anche entusiasmo a fare questa bellissima iniziativa. Chi sono queste famiglie? Le famiglie sono quelle disagiate che purtroppo chi non ha lavoro, chi non può mettere il piatto sulla tavola e ce ne sono tanti per motivi di lavoro, chi c'è lavoro è fortunato ma è sfortunato chi non ha il lavoro. Festività dunque all'insegna della solidarietà, vissuta come momento altamente formativo ma anche della grande arte e dei suoi capolavori. Il Natale della scuola De Nittis si ispira infatti a celebri pittori come Chagall e Van Gogh. L'istituto comprensivo da Zeglio De Nittis si è preparato a queste festività natalizie intanto con lo studio e l'approfondimento anche delle opere d'arte per cui per esempio la produzione artistica del presepe ricorda un'opera pittorica e questo perché è un modo per approfondire l'arte ma anche agganciarsi al tema del Natale. In seno al Consiglio d'Istituto però abbiamo voluto tutto il Consiglio aderire ad altre iniziative di solidarietà qual è appunto l'operazione Sorriso con l'intento non solo di raccogliere materialmente alimenti da destinare a famiglie che sono in leggera difficoltà in questo periodo o durante tutto l'anno e magari con questo aiuto potrebbero sorridere un po' di più. L'intento è stato proprio quello di avvicinare i ragazzi e i bambini alla consapevolezza che ogni propria azione ha una conseguenza e quindi educarli all'avvicinarsi alle associazioni che si dedicano al territorio, che si dedicano ai bisogni, che si educano anche al senso civico che deve permeare tutta la nostra attività educativa.